Dopo la bruttissima sconfitta subita d'opera del Martina Franca, per i calciatori giallorossi è giunto il momento di resettare tutto e pensare alla sfida di domenica contro l'ischia Isola Verde. Gli uomini di Mister Lerda si sono ritrovati questa mattina al comunale di Squinzano per dare il via alla preparazione per la gara che li vedrà opposti alla compagine campana. Un allenamento a porte chiuse è quello voluto dal tecnico di Fossano, forza per tenere i calciatori a riparo da possibili contestazioni da parte dei tifosi. Alla ripresa si dovranno valutare le condizioni di Dinizio e Sacilotto, che difficilmente saranno recuperabili per la partita. Intanto, dopo la visita svolta da una delegazione della squadra al reparto di oncoematologia pediatrica del Fazzi, svolta nella giornata di ieri, oggi si terrà lo scambio d'auguri natalizio con la tifoseria. L'appuntamento è per le ore 18.30 al Teatro Antoniano di Lecce.